Ciao ragazzi, oggi incontreremo Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes ve lo avevo nominato durante la video lezione sul rinascimento quando vi dicevo che importanti artisti italiani diffondono l'umanesimo e il rinascimento in tutta Europa perché si è detto che il rinascimento nasce in Italia esattamente a Firenze e poi si diffonde in tutta Italia e in Europa. E vi avevo detto che due grandi scrittori, i migliori di due importanti paesi come la Spagna e il Regno Unito e l'Inghilterra sono stati per quanto riguarda la Spagna Miguel de Cervantes e per quanto riguarda l'Inghilterra Shakespeare. Bene, oggi avvicineremo Miguel de Cervantes. Nasce nel 1547 vicino a Madrid. La sua è stata una vita davvero avventurosa e provata da diversi dolori. Trascorre la sua infanzia viaggiando per la Spagna perché suo padre era chirurgo, mestiere però allora poco retribuito. La sua giovinezza trascorre irrequieta, dominata da desideri di grandezza e di avventura e segnata dall'arresto del padre per debiti. Molti episodi della sua vita restano scuri, cioè non li capiamo, non li conosciamo bene, come quello che lo porta a essere condannato per rissa, cioè per litigio e ferimento e per aver ferito qualcuno, quindi determinando questo fatto il suo trasferimento in Italia al servizio nelle corti dei signori delle diverse città. Le corti, abbiamo detto, essere semplicemente quegli spazi abitati dei grandi signori delle città dove venivano ricevuti uomini di cultura, artisti, che allietavano i signori, che realizzavano opere per i signori e in cambio ricevevano da parte dei signori una buona paga e protezione. Bene, nel 1571 addirittura diventa soldato e partecipa alla vittoriosa battaglia navale contro i turchi all'Epanto, ok? Quando la Lega Santa, un breve cenno faccio, messa su dal Papa insieme ai più grandi governanti cristiani di Europa, vanno a combattere i turchi e a fermare il loro continuo allargare e dominare territori nuovi. Qui, all'Epanto, rimane ferito, Miguel de Cervantes, e perde la mano sinistra. Cioè, nonostante questa impossibilità perdere, scusate, perdere l'uso della mano sinistra, quindi perdere l'uso della mano sinistra. Nonostante questa menomazione, continua a prendere parte a battaglie e spedizioni militari, anche negli anni successivi. Nel 1575 si trova a Napoli e decide di far ritorno in patria. La nave, però, pensate un po', su cui è imbarcato, viene assalita dai pirati. Vi ricordate, no? I pirati che erano estremamente presenti in quel tempo nei mari. Cervantes viene imprigionato e venduto, pensate, come schiavo in Algeria, quindi nel nord dell'Africa, dove rimane per cinque durissimi anni. Ottenuta la libertà in seguito al pagamento di un riscatto da parte della sua famiglia, può ritornare in Spagna. La sua patria, però, gli riserva altre delusioni. Cervantes vorrebbe infatti dedicarsi principalmente alla vita letteraria, scrivere. Ma per sopravvivere, ragazzi, è costretto ad accettare incarichi, cioè lavori, anche modesti, cioè semplici, talvolta umilianti, e a occuparsi anche di affari, cioè di cose, per le quali non si rivela particolarmente adatto, cioè non ci sa fare, non riesce bene a fare. Gli ultimi anni della sua vita sono segnati da una dura lotta contro le difficoltà economiche, da diverse disavventure, tra cui un arresto e una scomunica da parte del Papa. Anche la pubblicazione di alcune sue opere, tra cui la prima parte del Don Quixote, non lo sottrae alla povertà e nel 1616, poco dopo l'uscita della seconda parte del suo capolavoro, muore. Ma adesso andiamo a vedere la sua grande opera, che è il Don Quixote della Mancia. Qui un'immagine che dà l'idea di questo personaggio molto molto particolare, adesso capiremo perché questo protagonista. Breve riassunto. Don Quixote, il titolo completo è l'ingegnoso Hidalgo Don Quixote della Mancia, è diviso in due parti, nettamente distinte, questo libro, e composte in anni diversi. La prima parte, nella prima parte, ci si trova in un borgo, in una piccola cittadina della Mancia. La Mancia è una regione centrale della Spagna, vicino a Madrid. Qui vive Don Quixote, un hidalgo, cioè un gentiluomo di campagna, che passa il suo tempo a leggere romanzi cavallereschi, al punto, cioè che parlano, romanzi che parlano di cavalieri, al punto che finisce con l'impazzire, scambiando tutto ciò che ha letto nei libri per realtà. Decide allora di farsi cavaliere errante, cioè decide di andare in giro per il mondo a riparare i torti. Dierrante vuol dire uno che è in continuo movimento, senza sosta, senza una meta precisa. E a far che, va in giro a riparare i torti, cioè a riparare le ingiustizie, a difendere i deboli e ad acquistare fama per le sue imprese. Ma voi capite che lui, cioè praticamente, legge questi libri, impazzisce e si immagina di essere un cavaliere e di dover andare a difendere non si sa bene che cosa. Tutto quello che lui vedrà e farà è puro frutto della sua immaginazione. Vediamo. Come tutti i cavalieri, Don Quixote ha un'armatura, sì, però vecchia e arrugginita, che aveva trovato in un granaio, cioè in un posto dove veniva messo il grano per poi darlo agli animali come cibo. Ha un cavallo, sì, ma scheletrico, chiamato Ronzinante, e una dama, sì, perché anche lui voleva una dama per la quale combattere, ma è questa dama non una nobildonna colta, sensibile, raffinata, ma una contadina rozza, a cui egli attribuisce il nome di Dulcinea del Toboso, alla quale dedica tutte le sue imprese. La prima serie di avventure, ragazzi, finisce male, ed egli ritorna al suo paese a farsi curare le ferite, perché lui combatte contro chiunque pensando di trovarsi davanti a un nemico di chissà che tipo, o a un soldato che lo perseguita, o a qualcuno che vuol far male a qualcun altro, ma tutto frutto della sua immaginazione. Ma voi capite che in questo modo, attaccando chiunque, egli scambia per un nemico, finisce per farsi male, anche perché è un imbranato, è un pacifico. Poco dopo, però, esser ritornato a casa per farsi curare le sue ferite, riparte, questa volta però, ragazzi, è accompagnato da uno scudiero, cioè da uno che gli fa da aiutante, ok? Il prudente e realista, cioè un uomo molto, come dire, attento a come ci si deve comportare, è molto realista, uno concreto che vede la realtà, la vede bene e si muove con molta attenzione nella realtà, questo vuol dire prudente, uno che si muove con attenzione, realista vuol dire uno che vede bene la realtà, che si chiamava Sancio Panza, che lo segue in groppa un asino, voi capite che è solo una coppia veramente surreale, buffa, strana, imbranata, no? a prima vista, anche questa volta il nobile e coraggioso cavaliere Don Quixote si batte, con la compagnia vigilante di Sancio Panza, si batte contro i mulini a vento, che scambia per giganti! Inoltre confonde un'osteria, cioè un luogo dove gli uomini andavano a bere il vino, con un castello e lotta contro degli otri, cioè dei vasi dove veniva messo il vino, che lui scambia per nemici, quindi l'osteria la scambia per un castello, gli otri per nemici e gli combatte, immaginate combattere contro un'osteria e contro degli otri, ti fai male! Dopo molte avventure finite sempre abbastonate, il parroco e il barbiere del paese, insieme a Sancio, riescono a riportare Don Quixote a casa. Nella parte seconda del libro si racconta che dopo un mese dal suo ritorno a casa, Don Quixote si è ristabilito, ma non è rinsavito, cioè non ha ripreso l'uso della ragione, perciò decide di ripartire e cade vittima, cioè gli succedono nuovi equivoci, nuovi episodi in cui lui scambia la realtà con la fantasia e crede per esempio di incontrare delle dame tutte innamorate di lui, infine viene sconfitto in un duello importante e deve far ritorno al suo paese, dove è colto da una fortissima febbre, gli arriva una fortissima febbre e questa febbre gli permette di recuperare la ragione e recuperando la ragione rinnega le sue imprese, cioè dice guardate mi sono sbagliato, ho fatto proprio delle grandi sciocchezze, saluta i suoi vecchi amici e muore poco dopo. Ecco il fatto che muoia poco dopo ragazzi sta a significare che venuta meno la possibilità di combattere per difendere chi ha bisogno, tolta la possibilità, una volta recuperata la ragione, di combattere per degli ideali, di manifestare il proprio coraggio, di riconoscere che la realtà non può andar bene così, quindi tolta la possibilità di combattere riconoscendo tutto questo, lui non ha più ragione di esistere e quindi muore. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio, proprio a leggere, un brano famosissimo di quest'opera che ora vi ho riassunto velocemente, è che è il Don Quixote contro i nulini a vento e a capire tutto il significato profondo che quest'opera porta con sé. Lo farò nella prossima video lezione perché siamo già a tredicesimo minuto e le video lezioni durano 15 minuti al massimo. Ciao ragazzi, la seconda parte nella prossima video lezione sul Don Quixote. Grazie a tutti.